Il gol del 23 della Brescia con Benica alle emettime chiaramente della tragedia di Parigi una bandiera della Francia strempolata dopo il gol per risultare adesso ce lo vediamo davvero bellissimo il quarto gol in campionato le passe 95 Morosini che si recupera palla qui con il contratto su verticoli poi scappa verso l'area di rigore a stato verticolino il voce non si chiede non si chiede